Non è la sola. È un vero peccato. Chissà se tra le mie amiche c'è qualcuno papabile. Io te ne sarei grato, ma loro non credo. Davvero? Perché dici questo? È un po' la mia maledizione. La invito al cinema, a cena. E anche se non mi interessa molto, alla fine mi ritrovo lo stesso a dirle che è bella. Ed è vero. Tutte le donne lo sono, in un modo o nell'altro. Ciascuna di voi ha qualcosa di indimenticabile. Un sorriso, una curva, un segreto. Certo, voi donne siete delle ammalianti creature. Vi dedicherei la vita. Ma il giorno dopo mi sveglio accanto a lei, con il dopo sbornia, e la consapevolezza di non essere così disponibile come credevo di essere. Lei se ne va. E io rimpiango un'altra opportunità perduta. Accidenti. Sono colpita, sai, per un momento ti sei tolto la maschera e hai detto qualcosa di autentico. Sì, di quando in quando mi capita. Con me non si può mai abbassare la guardia. Sono un po' come un pugile, sai, Muhammad Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard. Se vuoi li nomino tutti, dimmi quando può bas... Allora, ciao. Grazie.